gurulandia 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 ascolta gurulandia mi hai capito bene e benvenuti a gurulandia nuovo incredibile puntata signore e signori oggi io ammetto di essere particolarmente emozionato abbiamo con noi ladies and gentlemen Luca Pechino e Ricky Leroa incredibile incredibile siamo contenti anche noi tutto in orario tutto in ritardo grazie mille per essere qua al nostro podcast sono davvero felice di avervi perché voi rappresentate un po' per tutta Italia quello che è il mondo della notte il mondo del DJ la mente psicosia è un po' un pilastro di questo settore i guru della notte sì esatto i guru della notte e voglio partire proprio con la prima domanda che partiamo un po' dalle basi dal principio come è nata la mente psicosi ok io non so se chi vuole partire ma Ricky dai questa è la domanda giusta per Ricky no? mente psicosi è un gruppo di di amici e di colleghi soprattutto amici che si conoscono da circa 30 una trentina d'anni solo ci siamo ritrovati tutti nel solito locale cioè quindi l'insonnia sotto la gestione di Antonio Velasquez a un certo punto c'è stato qualche disguido e da questo disguido siamo nati cioè abbiamo preso Leonardo Broggi che seguisse la parte diciamo tecnica delle date di management esatto e noi il gruppo ci siamo messi insieme il il nome mettiamsi i cosi l'ha dato Gioi che ti conti che salutiamo ciao Gioi ciao Gioi grande e qual è il significato ecco ora te lo dice lui perché il significato non lo so nemmeno io no lo so però è troppo difficile dopo 30 anni che cazzo di nome ci abbiamo allora allora onestamente vado a memoria anch'io perché non è un tema che discutiamo tutti i giorni il significato del nome cioè alla domanda poi ci fermiamo non abbiamo voglia di di approfondire ma se non vado errato essendo Gioi quello di noi un pochino più mistico mistico attento alle dimensioni psichedeliche dovrebbe essere trasmigrazione delle anime ah quindi trasmigrazione delle anime troppo difficile una sorta di un cambio di anime morte vita rincarnazione supercazzole di questa di questa cosa qua però ci è piaciuto eh anche senza appunto sapere il significato e onestamente oggi è un è il nome che ci che accompagna da 30 anni però non ci sono gruppi che durano così tanto tempo cioè non litigate mai come fa la domanda la domanda ce n'è due la prima è semplice da rispondere ovvero secondo le nostre indagini se così si può definire non ci sono gruppi così longevi esistenti al mondo se si parla di artisti dj ok forse nella nei cantanti nei gruppi forse sì non lo so il pum ma sembrava quasi uno sputo verso il microfono ma esatto ho detto adesso è incazzato e no sì ci sta però nell'ambito discoteca credo di poter firmare il fatto che non ci siano storie di questa lunghezza poi nella domanda c'era anche un'altra cosa non litigate mai qui si apre probabilmente lui si è fatto pace 40 minuti fa nel senso che il litigio c'è sempre stato credo faccia anche parte di un rapporto come succede tra marito e moglie fidanzato e fidanzata ma la bravura di questo gruppo è che è sempre riuscito a come dire far sì che il litigio sia poi gestito risolto e tenuto sempre dentro il nostro gruppo ok quindi anche quando ci sono state difficoltà importanti il gruppo cioè quelli che per esempio non avevano litigato su quell'argomento hanno sempre mediato gli altri cercando di arrivare sempre poi a una sintesi e quindi ci sono stati litigi ma mai litigi così importanti da mettere a repentaglio l'unità del gruppo stesso gli artisti all'interno di Metempsicosi sono gli stessi da 30 anni o sono cambiati qualcuno si è aggiunto qualcuno si è aggiunto qualcuno si è tolto non lo so si è tolto Sandro Vibot ah grande Sandro ne salutiamo ciao Sandro e l'unico che era sì sostanzialmente ad oggi siete te Luca ovviamente Mario Più Mario Più Franchino Giochi Ticonti e Zichi esatto e Zichi grandi io mi ricordo delle grandissime serate Cannice Cannice Alvacaloca era meraviglioso e infatti compiando il Franchino che durava sei mesi sì esatto in tutte le discoteche d'Italia c'era compiando il Franchino voglio andare subito subitissimo parto in sesta in una domanda particolare cioè cos'è cambiato perché chi si parla di 12 anni fa sembra un secolo fa ma è 12 anni fa quando io avevo 18 anni perché eravate magari lo siete ancora però a quei tempi per un ragazzo di 18 anni andare alla serata tecno era la serata tutti a scuola parlavamo di tecno cercavamo la traccia tecno guardavamo su YouTube Franchino Enrico Leroy la grande botta I will find you cioè per me è veramente storia esatto ad oggi invece è proprio cambiata oggi c'è la trap ci sono tutti questi artisti qui andiamo i ragazzini vanno in discoteca più che altro per ascoltare questa tipologia di artisti poi permettetemi magari sbaglio se lo dice perché probabilmente noto questa cosa è percepita in ogni caso come mai secondo voi cos'è successo da cosa è arrivato questo cambiamento epocale prego prego vado io vada vengo da sinistra vada vada allora questi sono concetti ovviamente che non è possibile rispondere con un botta e risposta a livello di battuta perché sono spesso analisi che vanno anche a toccare un po' la società l'evoluzione delle generazioni dei giovani eccetera eccetera ovviamente in ogni epoca ci sono generi musicali mainstream e generi musicali underground ok poi è sempre una cosa molto ciclica cioè quello che oggi è mainstream può succedere che poi diventa di nicchia questo è quello che è successo un po' alla scena elettronica usiamo questa parola perché per elettronica dentro metto dentro la techno l'house non vorrei fare differenza gli anni 90 più che 12 anni fa gli anni d'oro gli anni 90 fino secondo me al 2010 la musica elettronica la musica di tendenza volgarmente chiamata era la musica mainstream ovviamente tolta la musica commerciale che il termine stesso dice che è quella che è sempre mainstream ovvero quella da classifica in radio però quella lasciamola da una parte per 65 e dintorni no quindi negli anni 90 primi anni 2000 la nostra musica ok senza poi andare nelle sfumature era la musica mainstream per quanto riguardava il club il clubbing si può dire che voi avete lanciato un genere diciamo sì negli anni 90 assolutamente la scuola la scuola toscana la scuola toscana faceva a scotz con quella della riviera adriatica però noi abbiamo inventato la progressive che era una però dicevo che poi le cose cambiano no giustamente le cose cambiano perché è giusto così e noi abbiamo passato degli anni in cui non siamo spariti anzi ma abbiamo ci siamo rinchiusi in un castello che era quello dell'underground ovvero dove ritornava a venire solo il cliente che realmente amava il genere non c'era più l'effetto greggio di pecore che succede quando una cosa diventa mestre ok perché oggi se te vai in una serata reggetton non tutti anzi la maggior parte non sa nemmeno chi è il produttore di quella hit quando esatto vai perché vanno tutti no è la frase fatta quando diventi underground è vero che diminuisce il business è vero che probabilmente diminuisce il lavoro in un certo senso ma hai molta più soddisfazione perché rifai club cioè rifai una storia dove chi è davanti a te nel mio caso sa le mie case a memoria nel caso di Ricky sa i dischi suoi apprezza veramente questo è uscito due anni fa esatto la bravura nostra è stata quella di fare squadra anche qui come nel discorso dei litigi cioè il gruppo ha retto quell'impatto quel perché poi sai da 0 a 1 è figo ma da 1 a 0 è un attimo no dico è più difficile sempre tornare indietro a livello psicologico ok quindi siamo stati bravi nell'essere compatti nel mantenere un livello altissimo di proposta e anche di strategia fino ad arrivare a 5-6 anni fa che per motivi che non mi dilungo e probabilmente nemmeno li so tutti siamo tornati ad essere un fenomeno mainstream perché oggi la metempsicosi la figata che non è più associata all'evento di tendenza ma è un format quasi commerciale perché oggi la tendenza la vai a sentire da Villa Lobos la vai a sentire dalla metempsicosi la metempsicosi è evergreen trasversale ci viene a ballare da noi quello che il sabato prima era ballare reggaeton e quello che il sabato dopo va a ascoltare Villa Lobos viene quello di 18 e quello di 35 quindi diventato un contenitore che accontenta tutti e questo ha riportato noi a riavere richieste a riavere un buon business e a riavere una grande gratificazione ci raccontavi prima che ti capita vedere il padre col figlio esatto quello che volevo dire è proprio questo che tendenzialmente mi sono accorto che proprio è una faccia il primo approccio è proprio con voi cioè almeno come è stato con me la vostra capacità di coprire sempre il pubblico fresco è sempre giovane con noi perdano la virginità è bravissimo con voi esatto questa è una bellissima metafora perché è vero io mi ricordo probabilmente anche per te è stato così anche per te il primo approccio è stato proprio questo io Franchino Ricky Leroy poi ho scoperto Luca ho scoperto l'esistenza della meta in psicosi iniziamo a andare a ballare in cannicia entro in un mondo poi lì è nato YouTube ho scoperto anche altre cose questo poi magari arriviamoci parliamo anche della nascita certo che è stata un'altra prova per noi esatto da sostenere però esatto i giovani primo approccio alla musica chiamiamola elettronica volgarmente che mettiamola sotto questa sfera si ha sempre con Ricky Leroy Franchino infatti se ne parlava prima dell'intervista la fotografia che riassume il tuo ragionamento è stata quella che troviamo in tante serate dove c'è appunto è ricapitato il padre quindi 40 anni col figlio di 20 perché uno a 20 anni può diventare tranquillamente lì capisci che hai tolto la virginità al quarantenne ma l'hai tolta in senso buono anche al ventenne e soprattutto che eri ascoltato 20 anni fa ma sei ascoltato anche dalla next gen perché l'errore più grave per noi artisti storici è quello di cominciare a lavorare a suonare solo per quelli che venivano che poi per ovvi motivi anagrafici sono sempre meno perché quello smette quello si sposa quello l'arrestano in tanti casi eccetera eccetera quindi lì poi vai vai piano piano a scemare e piano piano diventi no di nicchia di quasi con te stesso suoni quindi la nostra bravura è stata quella di reinventarsi ogni volta di generazione in generazione che non è assolutamente ve lo garantisco facile perché poi sei anche additato quello degli anni 90 no è quella di oggi sì infatti perché poi voi non è che mettete sempre i dischi storie di una volta anzi siete sempre molto attuali siamo anzi un po' contrari come accade oggi ora magari faccio la domanda a te Ricky perché è un po' magari meno di Uca come la sceglio cioè sei tu che scegli la musica che suoni qualcuno che te la manda come funziona oppure io ascolto ci sono varie piatteforme su Beatport beatport St. Claude esatto queste cose qua ascolti ascolti le cose più nuove quelle che escono al momento ogni giorno escono dischi poi magari ascolti set di colleghi un giro per il mondo sempre inerenti al tuo genere musicale prendi spunti prendo spunto uno che mi ha fatto continua a piacermi è solo molti faccio grande molto bravo ci sono tanti dj che io poi ascolto qual è il tuo preferito il tuo dj preferito ti sta copiando capelli solo visto che si sta facendo crescere lui anche lui anche quelli sono storici preferito io mi diverto un sacco con vabbè è come se fosse il nostro figlio Ilario quando la fan prodige esatto quando è qua in Italia cerchiamo sempre di andare a trovare a sentirlo a stare un po' insieme perché lui comunque è un dj numero uno al mondo uno dei numeri uno al mondo e sono contento e prendo anche qualche traccia la parola da lui per te Luca chi è il tuo preferito una curiosità allora io questa è una domanda da 10 milioni di donne sì perché a livello diplomatico è delicatissimo rispondere io ovviamente stravedo per i miei colleghi della metempsicosi ma non lo dico come frase fatta perché credetemi lavorare in stage a Ibiza con 6.000 persone davanti fra virgolette è anche facile lavorare come spesso capita a noi in serate con un target ibrido dove devi cercare di riempire la sala dove magari quella volta c'è qualche lì vedi davvero chi sa come coinvolgere il pubblico e Ricky Mario Joy Zichi devo dire sono dei grandi professionisti ovviamente poi ho un debole particolare per Ilaria Alicante perché abbiamo una storia in comune sono il suo manager da sempre per me ha una visione ha un gusto ha un X Factor immenso e quindi ovviamente per me è un riferimento come credo sia anche molto molto bravo Luca Agnelli che è un altro artista che è amico e che seguo che nelle sue evoluzioni devo dire che ha sempre dimostrato una grandissima bravura e professionalità ecco per rimanere in casa tra virgolette vi direi questi una domanda per Ricky Leroa se posso rimpiangi un po' il tempo dei dischi del mixaggio col vero vinile perché adesso si vede tanti DJ che hanno un computer e basta essenziale che usano Tractor Autosync alcuni infigiano solo Play e basta questo non lo so non lo voglio dire però ce ne sono ce ne sono ce ne sono anche che prendono anche un sacco di soldi qualche volta si schiacciano dai video YouTube un occhio c'è della polemica è un arancione a volte mi capita di vedere dei TikTok degli short dei video dove veramente hanno un computer e neanche lo toccano quasi guardano cioè non non si vede più quel DJ davvero con i dischi che fa quel mixaggio autentico ora lo fanno tutti portati dall'altra parte del mondo portati dietro una scarrellata di vinili già oggi è un ammattimento però era bella quella roba era bello era bello lavorare cioè il DJ è nato col video quindi l'altro ieri ho suonato con Ralf e Ralf mette ancora qualche disco io sono sincero sono pigro e quindi questa tecnologia ti ha aiutato la tecnologia mi ha aiutato molto mi ricordo il tempo 4-5 bauli di dischi portati avanti e dentro sui aerei a livello tecnico rende anche la vita più semplice cioè è più facile fare quel mestiere ora si infatti non ci sarebbero così tanti DJ questo è un aspetto importante lo sdoganamento del DJ mi stavi dicendo la Pornostar il pilota di Formula 1 la barriera d'ingresso è bassissima perché oggi la fruizione del mixer è diventata facilissima per tutti e anche la produzione perché la produzione oggi con un computerino te fai un disco fai una traccia non occorre stampare quindi non occorrono soldi da investire ma basta pubblicarla su uno dei portali quindi oggi la merda è infinita prima la selezione era naturale A perché i dischi andavano comprati B andavano saputi mixare senza i controller senza quelle che ti fanno fare da solo in automatico terzo se volevi fare un'uscita ti frugavi perché dovevi stampare i vinili sperare di venderli se no avevi rimesso soldi si può dire che oggi è più difficile emergere perché ce ne sono troppi è un concetto collegato cioè è un concetto collegato è anche qui è poi in realtà è uguale in proporzione perché oggi ce n'è di più ma hai più strumenti per farti conoscere pensa ai social bravo prima ce n'era meno ma se te non eri resident in un locale bomba rappresentativo te non uscivi dal buco cioè è sbagliato dire che prima emergevi più per la bravura adesso più per il personaggio che crei marketing anche oggi sicuramente adesso diciamo devi creare più un brand che essere bravo oggi il contenitore questo vale credo un po' per tutto conta un po' più del contenuto però io sono non sono un nostalgico e non voglio che passi questo questo messaggio io credo che chi arriva è sempre bravo perché c'ha la qualità è sempre bravo la qualità può essere poi sul disco bomba o può essere su un x factor una mediaticità che ha cioè le strade per il signore sono infinite però se arrivi e vivi scusami e grazie alla musica tu vivi vuol dire che in qualche modo la tua strada l'hai trovata non starei qui a fare era meglio prima era meglio dopo ovvio che prima il vinile ti guardava negli occhi non c'era la facilità di adesso ora ci sono tutte le cose tecniche tecnologiche che ti danno la possibilità anche di non sbagliare però poi alla fine vengono fuori ora metti a tempo con un bottone prima devi abbassare però in console ci devi sapere stare infatti stavo arrivando lì è molto più semplice ora secondo me da ignorante dei social è molto più semplice farsi vedere da tutti però poi alla fine stringi 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 ci vuole la qualità devi far divertire la gente se no guarda Marco pensa una cosa questa è una cosa che ogni tanto a lui l'ho detta ci credete che la stessa traccia la stessa traccia quindi un mp3 suonata da Ricky cioè sta suonando quel disco e c'è Ricky che è in console la stessa traccia suonata nello stesso club allo stesso orario quindi già mixata non ti parlo di come è entrato la traccia la stai ascoltando con un altro il disco è diverso hai pienamente ragione quindi i fattori sono tanti no sì è vero ma non perché sono io no 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 a me me lo fa anche con te io quando vado a vedere Ricky vado a vedere l'emozione che Ricky dà e di conseguenza il disco bomba che mi mette mi trasmette un'emozione è folla che è quello che i nostalgici hanno vissuto emozioni e ancora adesso e ancora adesso le sentono sentire un disco vecchio ti vanderà ancora la pelle d'oca difatti dalle nostre parti ancora ogni tanto si vede la macchina con lo stemma dei Jay esatto quindi un attaccamento ancora a quelli che furono gli anni io penso che i giovani invece di ora non abbiano più questa non la sentono più quelle emozioni che sentivano ecco a livello proprio di clubbing le persone il personaggio tipo che andava in discoteca in tempo è cambiato rispetto a quello di adesso proprio l'ambiente discoteca io devo dire la verità è diversi anni che non frequento più quel mondo lì il mondo della notte per diversi motivi però ecco è una mia curiosità ai tempi era diverso rispetto ad ora oppure la qualità del pubblico sì non lo so io mi ricordo per esempio quando andavo io comunque era era già tale si stava ore a guardare però mi ricordo i racconti io mi ricordo i racconti ai miei tempi c'erano i racconti di quelli più grandi che hanno vissuto appunto gli anni 90 che cioè mi raccontavano delle cose che era un mondo a sé cioè assurdo cioè capito imperiale sì piramidi imperiale l'insonnia cioè questi posti io non ho mai vissuto che comunque ho sentito tanti racconti importanti ecco diciamo così diciamo così particolare esatto esatto anzi avete qualche anche aneddoto divertente a raccontare di quegli anni allora di base l'aneddoto ora Ricchi ne ha diversi te le dice e hanno un costo ogni aneddoto sono 12-13 euro pensiamo peggio si fa un pacchetto di 10 aneddoti se ne dice bravo un pacchetto un packaging però rispondo alla domanda negli anni 90 bravo grazie a differenza di oggi era molto diverso il pubblico ma non perché si nasceva più belli la madre natura ci fa più o meno nella stessa maniera anzi la legge di Darwin dice che si migliora ma c'era una ricerca verso l'accessorio verso la moda del momento prima di andare a ballare il sabato si andava nel negozio giusto a trovare la maglina giusta l'accessorio giusto cioè c'era c'era il sabato notte era un culto un ritrovo dove te dovevi essere il più interessante possibile questa cosa poi si è in modo verticale totalmente persa fino al punto di trovare ogni tanto in delle discoteche gente che è in tuta o a petto nudo che io non sono un esteta attenzione però mi fa capire quanto ormai non è più importante ricercare la tendenza l'eccentricità che creava colore creava particolarità o lo sai c'era quello sulla spalla c'avevano non mi viene il nome quei uccelli che parlano il pappagallo scusa se ti interrompo ma adesso vedo che il più interessante lo è chi spende di più al tavolo basta quello è sembra grazie a Dio questa cosa a noi non ci appartiamo meno male vediamo questo spesso frequentiamo quel tipo di locali perché le trovo veramente l'essenza della superficialità dove il vocalist che mi offende quasi che abbia il mio stesso nome della categoria lavorativa non fa altro che salutare il tavolo che ha speso più dell'altro per creare la competizione con la Lamborghini in miniatura con le bottiglie dentro io lì se quella è la discoteca io posso dire pubblicamente che sono anti discoteca nel senso io odio questo effimero io lavoro in questo mondo per le emozioni come diceva lui che mi dà la musica allora Luca ti volevo fare una domanda ora magari a casa ci sarà sicuramente qualcuno che magari non vi conosce appunto tu ricopri la figura di vocalist Ricky fa il DJ volevo chiedervi a entrambi come è nata come sono nate le vostre passioni magari prima risponde uno poi l'altro e parlando di te Luca vorrei anche esaltare un po' la figura del vocalist come lo intendiamo noi come lo intendiamo noi come è nato il vocalist in Italia oggi credo che siete gli unici due vocalist tu e Franchino in Italia quindi insomma a livello nazionale come siamo arrivati ad oggi con solo due vocalist e perché? Ricky inizia lui come ha iniziato e poi io che sono arrivato qualche anno dopo mi aggancio così cronologicamente si fa una cosa perché era un light era un light la mia passione per la musica e da ragazzino proprio 14 anni 13-14 anni andavo con mia zia in discoteca discoteca come vuol dire perché sopra c'era dove io sono nato cioè dove nasco dove vivo a Sarzana provincia di La Spezia c'era una discoteca che si chiamava L'Ambra si chiamava L'Ambra perché purtroppo non c'era più nella parte sopra c'era il liscio e mia zia appassionata di liscio mi portava però sotto c'era la parte più movimentata la discoteca la mia passione era quella che ero un ragazzino quindi andavo lì sotto come dicevi te prima stavo tutta la sera lì a guardare quello che faceva il DJ e quello era per me un'emozione vedere cosa faceva come si muoveva quale discoteca a quei tempi scusami che c'era vinili non c'erano i cdj non c'era ancora questa roba no non c'era niente stiamo parlando degli anni 80 83 82 non era ancora l'Italia non era ancora unita penso io non ero nato 83 ieri ho fatto 56 anni è vero auguroni ritardi tante roba bravo 10 meno grande e quindi 82 83 devo sentire questa roba qua che per me era spettacolo c'era la parte afro mamma mi vengo di privi a ricordare poi sono sono diventato amico con questo dj qua che poi dopo alla fine è uno che poi ha fatto parecchi soldi perché è quello che ha fatto il disco di corona this is the riddle of the night ah bello quello lui che è co-dj che è uno di Maria Di Carrara Limarro siamo diventati amici e piano piano mi ha fatto salire la console salire in console per me era arrivare ero arrivato dai mettimi le luci dai schiaccia lì facevo di qua e da lì ho cominciato a mettere le luci piano 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 poi ho cambiato locale perché poi ho conosciuto un altro dj ho fatto la stagione alberghiere perché facevo la scuola alberghiere anche io anche io pensate i cuochi tutti gli alberghiere sono fatto il cuoco funziona io ho fatto il cameriere facevo il cameriere ho fatto la stagione a Viereggio a Tonfano e lì davanti c'era una discoteca ho conosciuto Massimo Barsotti che gli ho detto guarda io sono bravo a fare le luci e mi ha detto dai vieni intanto non c'era nessuno ma che gli selezionava le luci e poi siamo diventati amici lui lavorava alla spezia l'inverno la parte invernale e mi ha portato con lui piano 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 ti insegno a mettere dischi a tempo che se devo andare in bagno me lo metti te un disco e piano piano è venuto fuori che ero bravo anche a mettere dischi a tempo una volta che hai messo il primo non volevi più smettere quando tornava dal bagno io ho una confidenza che lui non vi dice il grosso upgrade che nella carriera quando ha preso proprio l'entusiasmo è quando ha capito che il dj con le fighe funzionava lì ci si è dedicato lì ci si è dedicato in modo ancora più assiduo anche perché insomma un bel ragazzo è quindi i risultati li portava a casa a scuola mia c'era questa no magari non è una leggenda c'era questa diceria che Richi Leroy le prendeva tutte si diceva questa cosa non mi sono mai fatto mancare niente scumiltà si diceva era proprio un Richi Leroy si si spacca tutte a metà sempre rispetto rispetto massimo rispetto per la donna no ma certo ci mancherebbe altro però diciamo tutte estremamente consenziali bravo ci siamo divertiti entrambi all'interno delle regole del rispetto ci mancherebbe esatto niente e poi cosa succede ah ecco quello che mi ha fatto partire la conoscenza con a parte che Alex Neri è di Sarzana è di Sarzana era a scuola con mio fratello in classe con mio fratello e insieme a Adriano 12 ricordo quando uscì Samurai lui Ralph chi c'era poi erano tre dischi ci avevano uno studietto lì zona Sarzana e facevano dischi ha fatto un disco che si chiamava DJ Leroy Boca Chica questo disco qua andò andò bene e quindi c'era da prendere l'immagine di chi era quello che ha fatto questo disco DJ Leroy la fa Ricky Ricky Leroy è venuto fuori il mio nome è successo e fino a prima ti chiamavi solo DJ Ricky no ma non mi chiamavo DJ perché non ero un DJ ti chiamavi Ricky e basta Riccardo si Ricky mi chiamavano tutti Ricky Ricky Leroy è venuto fuori per questo disco qua che Alex Neri mi ha detto no guarda prendila te perché so che è sempre stato con noi siamo amici fratelli siamo cresciuti insieme e quindi è venuto fuori il mio nome Ricky Leroy da lì sono andato a fare Radio Mare Imperiale News che era una radio nella zona toscana che era solo solo musica io facevo le bobine ve lo ricordate le bobine mettevo i dischi e facevo un jingle non è che c'era parlato non c'era niente un jingle un disco un jingle un disco 24 ore vabbè non è che era registrato quindi sono cose che erano come si chiama il loop Radio Mare Imperiale Luce era quella dell'Imperiale e piano piano poi sono andato vado ad andare a fare una serata all'Imperiale vado all'Imperiale mezzanotte e mezzogiorno una serata mamma a casa non ritorno mamma ecco quella è stato l'inizio della mia carriera diciamo poi sono andato al Duple Paura 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 92 prima serata l'ho aperta io insieme a Stefano Bratti ah grande bello e ricepivi subito che quello che suonavi alle persone piaceva si la mia scelta musicale era faceva divertire ecco anche questa ho aperto questa piccolissima parentesi poi la chiudiamo è proprio ci vuole il gusto buono esatto come un buon gusto come fai a capire vabbè al fatto che ballano sicuramente cioè ma magari i primi tempi avevi sempre dei dubbi no gli garberò garberò a quello che sentano no come l'hai vissuta in quei momenti lì ma guarda io principalmente suono quello che mi fa emozionare cioè se no ho un disco che non mi dà emozione non lo so quindi quello è secondo me la differenza fra tanti altri DJ no che magari mettono il disco che che deve mettere devono mettere perché magari va di moda io sono mi emozione ancora sentire i dischi fatti dagli altri e suonarli per comprarli e suonarli ma scusami se ti interrompo ma è una curiosità il set tipo te lo prepari prima o tutto lì per lì scegli nel momento tutto live tutte le volte ne è meno nel momento esatto dipende anche dal livello di altri sì quando uno è un po' più carburato magari viene fuori qualcosa di carino è vero è sempre più estrosa una persona esatto però lì nel momento devi scegliere la prossima traccia se non ne trovi una che ti piace è pane in difficoltà ora poi così è ricapitato anche recentemente che durante un giro di shortini non si rende conto che la traccia è finita c'è un minuto e mezzo di silenzio ma vi assicuro che in quell'onda in quel momento con quel morale che si crea quell'energia anzi anzi quando riparte certe volte sembra quasi fatto apposta ma non è fatto apposta cioè quando c'è energia un dj di vero come lui nessuna cosa esce dal controllo e in realtà c'è un completo disordine questo perché è istinto allo stato puro non è non è costruzione è naturale a voler arrivare da qualche parte è verità quando uno lo fa naturalmente ce l'hai proprio dentro ormai fai questo e questo e questo lo si percepisce a differenza di quello che con 7 mila geggini ha iniziato ieri l'altro ma poi non passa è freddo non c'è non c'è e questo non si può spiegare il perché perché magari appunto la traccia è la solita ma non so se riesco a no no è chiarissimo è chiarissimo giusto giusto perfetto e poi infatti ve lo farei una domanda quando è che hai capito proprio che ce l'avevi fatta cioè c'è stato un momento in particolare in cui hai detto quella volta che non ti hanno arrestato ce l'avevi fatta quando sono entrato a far parte dell'insonnia i duple e e l'imperiale erano locali diciamo di nicchia ok l'imperiale in primis perché era una roba particolare mezzanotte mezzogiorno tutti i sabati c'era una parecchia gente poi oggi una cosa del genere incredibile cioè te stavi lì 12 ore di fila 12 ore a volte anche 18 l'insonnia ha reso mainstream quello che ti dicevo che prima era di nicchia è lì che lui ha avuto quella percezione mi è già stata fatta anni fa questa domanda e quando uno quando si è accorto quando sono entrato a far parte dell'insonnia del club insonnia della discoteca insonnia lì ho capito che era il mio DJ era il mio lavoro era un lavoro che potevo continuare a fare il lavoro tra l'altro grande fortuna quando fai della tua passione il tuo lavoro hai vinto nella vita assolutamente questo è fuori discussione assoluta sì sì assolutamente e sì poi c'era l'altra domanda molto interessante che magari siamo persi dai le rifaccio le rifaccio vocalist come Luca è uno degli ultimi vocalist rimasti in Italia come nasce la figura dei vocalist in Italia perché oggi ci sono solo due vocalist quindi spiegare questa roba allora l'aneddoto sulla nascita l'ha raccontato Ricky il suo quindi evitiamo il mio se no ci si dilunga però anche te hai detto che diciamo era un po' per le ragazze no? sì cioè io vado veloce no ma non andare nel senso dai delle sfumature io mi avvicino al mondo della notte mi avvicino all'insonnia perché io ho circa dieci anni meno di lui quindi io mi affaccio a quel mondo quando già l'insonnia esisteva tu andavi a sentire lui? io andavo a sentire anche lui era già uno dei miei preferiti all'epoca resto infatuato un po' come lui da questa figura quasi quasi come se in chiesa ascolti il vescovo cioè questa centralità della console come in un altare in una chiesa cioè c'era qualcosa di trascendentale in quello che succedeva in quella console nelle console il dj era in quel momento un come nelle tribù africane il santone il guru il guru il guru questo lo percepivi molto quindi ebbi due forti attrazioni una più bella da dire e una più pragmatica quella bella era questa attrazione verso questa centralità e la musica perché di base come dicevo io sono sempre stato attratto da quelle emozioni dall'altra meramente opportunistica vedevo che chi era lì era figo era figo perché tutti lo salutavano era figo perché tutte le ragazze erano lì intorno quando hai 17 18 anni 16 la priorità è il testosterone è chiaro sempre qualsiasi strada ti porta verso quella cosa che non si dice è da fare immediatamente siccome non ho potuto fare mai della mia bellezza il mio cavallo di battaglia cioè sono normale non sono a land alone dovevo trovare no un problem solving trovare una soluzione per raggiungere l'obiettivo adolescenziale che è la ragazza le ragazze quindi avevo questa doppia vantaggio nell'avvicinarmi a quel punto la passione che mi stava nascendo verso quelle sonorità e cazzo dire oh ho 3-4 fighe che vogliono uscire con me anch'io vado veloce anch'io iniziai a fare le luci il sabato sera dell'insonnia perché le luci apro e chiudo a parentesi è un'ottima scuola sulla ritmica sui 4 quarti della musica cioè io se oggi faccio il vocalist e diciamo che riesco a entrare nei momenti giusti è anche grazie a quell'istrobo che ho messo negli anni 90 perché passavi 7 ore a serata a seguire la ritmica a capire la pausa a capire il momento emozionale e questo dentro di me c'è e è quello che forse come lui quando fa il dj io quando faccio il vocalist luci il sabato sera che il sabato sera era il Real Madrid era come per un giocatore di calcio andare a giocare nel Real Madrid esatto e io facevo le luci non era ancora artista mentre la domenica pomeriggio dell'insonnia non vi dico come perché ma anche io iniziai per caso quando il vocalist era malato mi dettero il microfono a me per dire buonasera iniziai a fare il vocalist la domenica pomeriggio dell'insonnia target più basso target più basso comunque 3.000 persone a quell'epoca quando poi il sabato sera 5.000 al sabato 3.000 al sabato esatto quando si liberò il posto il sabato sera fui passato al sabato sera da vocalist che ripeto è come quando quello che è entrato ora nel Milan a 15 anni a 16 anni a Caldara te entri all'insonnia era oggi non ci si rende conto ma era come entrare nel Real Madrid cioè te se eri una volta scritto sul flyer cartaceo all'epoca te in automatico venivi chiamato da Torino a Palermo esatto quello che dicevo io quando sono entrato in lavoro a far parte dell'insonnia questo è stato l'inizio il vocalist il vocalist bisogna dare onore a un collega che oggi qui non è con noi che salutiamo che salutiamo e magari e magari e magari prossimamente lo avrete che è franchino lui è stato se io sono qua e se tutti i vocalist intesi vocalist come poi vi spiegherò sono hanno fatto di questo il proprio mestiere grazie a chi l'ha fatto per primo che è stato lui è stato lui che per gioco prendeva era un cliente della discoteca io l'ho conosciuto Franco quando era cliente che pagava per entrare all'imperiale pagava all'imperiale io me lo ricordo Franco era si vedeva che era un personaggio arrivava lui arrivava Franco perché perché era vestito particolare cappelli lunghi lo vedevi si notava quando passava e però pagava 50.000 lire si pagava nel 92 c'è un aneddoto bello che il proprietario dell'imperiale scrisse sopra all'entrata disse alla mosca a ragno dove c'è la lista non c'è guadagno pagavano tutti solo noi DJ e basta il resto pagavano tutti oggi è un po' il contrario esatto 50.000 lire erano soldi e per gioco prendeva era diventato un po' il personaggio della discoteca ma così il personaggio della pista a una certa ora andava da proprietario dai fammi parlare dai fammi parlare dai fammi parlare e che diceva tipo all'inizio cioè raccontava delle storie magia la diceva spesso raccontava delle storie o diceva qualche parola tipo ma ora di preciso meglio le famose favole ora no 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 le favole è giusto che poi dica lui che trasconda lui no a questo poi ci si evolve ovviamente ma il concetto è un altro cioè nasce il vocalist come personaggio che con certe parole perché è lì che vogliamo arrivare con certe parole aumenta l'emozione che la musica ti dà mi crea una storia cioè il vocalist per come si interpreta noi non è quello che saluta il tavolo saluta la compagnia di pieve annevole o piuttosto c'è da spostare la macchina targata il vocalist oppure i compleanni o i compleanni e spenge la musica per soffiare le candeline il vocalist a casa nostra è una figura artistica infatti sui flyer è scritto grande uguale al DJ come special guest quando siamo ospiti in un locale perché insieme alle sue parole e la musica crea un flusso emozionale che secondo la nostra scuola la nostra teoria è maggiore di quello che può fare la musica è una performance tale quale il DJ che tanti quando mi dicono che lavoro fa il vocalist cioè io non glielo posso spiegare io ti dico sempre dico sempre vieni e ascolta perché già ascoltarmi o ascoltarlo ma il vocalist è ancora peggio ascoltarlo decontestualizzato dal luogo non è la stessa cosa perché per uno come me che non si prepara niente ma parla di quello che sente al momento ogni mia parola è legata a uno stato d'animo che sto provando perché ho visto te col cappello ho visto lei che è una figa o perché c'è un disco che mi ha fatto un brivido perché le luci in quel momento erano fatte bene come fai queste emozioni a replicarle se tu le decontestualizzi dalla situazione quindi la risposta è sempre no vado su youtube e ti ascolto sì ok per darti un'idea sì ma non c'è quell'emozione ma vieni no ma perché poi anche il compito vostro è quello di risvegliare un po' cioè siamo lì a dodici ore mantenere attivi a un certo punto attraversi la fase per dirti anche a cocorico quando facevano le dodici ore c'era sempre quel momento dalle quattro alle sei la mattina che spingevano la situazione c'era un po' di nebbia strana dentro il vocale ti dà una mano è come se ti ti risveglia un attimo ti riporta un attimo su ci sono varie scuole anche qui la scuola toscana non è propriamente quella per esempio Roberto Francesconi che era un vocalist molto energizzante che aveva un po' questo ruolo cioè di rendere un disco che in dei momenti poteva essere anche un po' piatto svegliarlo la nostra scuola io Franchino e Zichi quando era vocalist è un po' diversa è un po' più viaggiante cioè io non aspetto il momento in cui ti devo tirare su io faccio in modo insieme al DJ che sei sempre lì che sei sempre al massimo del tuo stato emozionale la mia domanda a fine serata quasi sempre è questa notte siamo stati bravi se per una notte vi abbiamo tolto i pensieri dalla testa se siete stati liberi di pensare egoisticamente a voi stessi e se avete provato delle emozioni basta cioè quello il segreto bisogna invitarli per forza ma un po' loro sanno di cosa si parla noi siamo venuti tante volte vanno rinfrescati e questo mestiere è un mestiere che in realtà tecnicamente non esiste cioè esiste solo in Italia praticamente esiste solo in Italia ma anche in Italia di vocalist se lo chiedi a cento persone ti dicano c'è quello che presenta ora non mi piace a me fare nomi ma il vocalist nella tendenza è rarissimo nei locali commerciali è pieno ma per me è un altro mestiere sì sì non dico peggio meglio ma io non faccio cioè sono delle persone che mettono lì a dire io non faccio no no non entriamo nel se no lo dico io per te se vuoi mi faccio contro una categoria intera io faccio una cosa diversa probabilmente c'è gente che mi chiede per due ore oh mi saluti Genova no no perché ora non c'è un cazzo cazzo cioè si può dire perché ora sto dicendo ogni parola legata a ciò che lui sta facendo il saluto a Genova ci incasta cazzo poi magari c'è il momento che invece mi prende perché ci sta perché ci sta perché ci sta ma lo so io chiaro avete tipo dei che ne so un occhiolino per capire quando sto partendo questa è un'altra cosa bella zero eppure sembra tutto c'è sintonia sì anche quando dici Enrici l'eroa e parte l'attacco quello però lo sai dai quello lo vedi conosci la traccia conosco la stesura dei quattro quarti che ogni disco ritorna al discorso delle luci questa è stata la mia ignoranza poi ovvio ovvio c'è il periodo in cui lui può mettere più volte nelle serate non nella solita quel disco perché in quei due mesi è il disco che è chiaro quello ha occhi chiusi ma anche se ne mette uno nuovo la sintonia tra di noi specialmente tra di noi te lo sai già quando sta per attaccare ma io so già lui se vuol col disco dopo se vuol scendere se vuol salire so già se vuol fa quel disco di passaggio per poi metto un'altra bomba lo so in base a quanta vodka lemon ha bevuto come lo gestisci il flow di un DJ set cioè parti piano poi hai la fase dove spingi poi cali allora bella domanda bellissima domanda prima cercavo di partire piano per andare a salire ora abbiamo sempre un'ora a testa più o meno quando andiamo poi parecchio insieme ultimamente siamo parecchi insieme a parte noi ma tutto il gruppo abbiamo più o meno un'ora a testa e lì c'è da scegliere non ci si può fare il viaggio far partire piano per poi magari anche dipende anche dall'orario che sono io di solito di solito siamo io e Mario a finire la serata quindi non c'è più da stare bassi per poi salire lì devi un po' continuare partire subito a cana esatto esatto ai tempi invece sì c'era proprio una scelta da far viaggiare per poi andare a saltare capito la viaggio mentale all'inizio a saltare sulle mani verso la fine questo è però anche questo è frutto dei tempi io sono un po' lo psicologo del gruppo anche perché sono laureato in questo quindi mi delizio e mi diletto anche qui è il risultato di una superficialità sempre maggiore di approccio delle informazioni se pensi che oggi l'attenzione media che ho letto è di tre secondi se prima in club io potevo costruire un set di quattro ore dove uno percepiva l'evoluzione per arrivare a un picco e poi calare oggi te hai una capacità di attenzione del pubblico che è un attimo quindi se te arrivi in console tutti i cellulari accesi perché grazie a Dio ci abbiamo tanta attesa quando andiamo e per caso per dieci minuti metti un disco che nella tua testa sarebbe una costruzione ma non li rende soddisfatti nell'immediato il tuo hype in quel momento scende da 100 a 0 in un attimo quindi facendosi un po' violenza perché abbiamo la cultura e la preparazione per poter fare un grande viaggio a differenza di tanti che sono nati ieri l'altro siamo purtroppo costretti è un discorso un po' complesso a dare quello che la gente vuole sempre con gusto sempre con attenzione ma siamo molto limitati nella nostra espressione questo è un dettaglio molto delicato io capisco benissimo mi dispiace al mollica o senza dove io non mangio la schiacciata non ho il tempo di mangiarla mangiare una schiacciata è troppo più lenta come azione rispetto a ascoltare uno slogan quindi il paradosso questa segnatela perché quindi il paradosso è che io dico è buonissima la schiacciata del mollica o senza ma non l'ho mai assaggiata ora io non voglio fare né pubblicità né contropubblicità è un esempio questo ok ma rende l'idea quindi ormai Luca Enricchi è più il dire sono andato e li ho visti che invece che li ho ascoltati chiaro quando invece ci sarebbe robe da raccontare a questa gente perché è 30 anni ma poi voi negli anni 90 90 fino al 2000 2010 voi ci sono stati alcuni momenti che facevate anche più di una serata al giorno come avete gestito questo cioè il capodanno il capodanno che in genere non finisce mai alle 4 la mattina ora non più è diventata la serata più sfigata dell'anno ora è Halloween ora è Halloween che si spinge però all'epoca mi ricordo capodanno torniamo tipo tre giorni dopo capodanno mezzanotte in sogna prima ora partenza Roma Roma Venezia mamma mia comodo a livello logistico ma con gli aerei a quei tempi si andava tutto in macchina con qualche amico che mi faceva compagnia io guidavo ho sempre guidato io perché poi alla fine mi piace suonavi riguidavi risonavi ma avevi aiuti particolari o no l'amico è un pusher avete mai fatto utilizzo di sostanze si è successo perché dire di no è successo ma di qualsiasi tipo no il coso quello qual è quella rana che se la lecchi quella no ah ok ah forte quella nella foresta dunque beh io chiedo perché comunque si sa che si il mondo della notte porta forse comunque queste sostanze è successo senza parlare di voi no ma comunque nel mondo della notte c'è sempre questa costante delle sostanze stupefacenti diciamo secondo voi che ruolo hanno? è un ruolo positivo negativo secondo me non ce n'è più come una volta no è nostalgico non è no una volta ce n'è molto di più ma stava meglio quando si anche lì c'è un cambiamento io mi ricordo per esempio che ai miei tempi che ora sembra ma c'era questo boom di queste pasticche d'estasi tutti si facevano queste pasticche ora non ne sento più parlare perché non c'è più la qualità buona non c'è più ah ok guarda io ti dico lo usate al tempo all'inizio proprio al mio inizio ma dopo poi quando poi non 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 ti fa più niente che poi dopo è fare viaggiare un'ora neanche secondo me è successo ma ti capitava anche di utilizzarle proprio mentre suonavi? quando ho fatto mezz'ora e mezz'ora sì ma non per andare fuori di testa ma per tenermi sveglio più che più cavolo lo sai che vuoi di 18 ore con le cuffie e in piedi io mi ricordo c'era a Sunwaves caro un paio di anni fa fece la maratona doveva mangiare le banane perché gli venivano ma lui è un particolare personale in particolare lui sono convinto che non si droga più di tanto non si droga sicuramente ora non so al tempo come ha fatto però ultimamente non so come fa io lo ammiro ma ci sono dei dj che ne hanno fatto il suo punto di forza io mi viene semplicemente Villa Lobos che è riconosciuto per quello quasi perché va in console distrutto piegato in due e la gente va lì proprio per vedere lo stato in cui è Riccardo Villa Lobos cioè è una roba assurda però è vero è così invece Carola so che lo conosciamo e gli piace proprio suonare ore e ore ore suonare gli piace suonare io non so come fa beato lui però lo ammiro però credo che limitare la frase che indisco te le droghe no 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 le droghe non era quello le droghe purtroppo perché non diamo dei messaggi giusti purtroppo è un fenomeno diffusissimo per esempio anche nel mondo del lavoro per esempio nella ristorazione mi hanno detto anche a me che è una tragedia ma penso anche a tutti i livelli della società e invece sul tipo di droga cioè te mi dicevi dell'estasi è un po' come la musica vanno a mode c'è i cinque anni che va di moda l'estasi cinque anni va di moda la chetamina non lo so non sono un esperto usciamo un po' da questo argomento che ci sei in pantana in argomenti strani volevo farvi un'altra domanda e ripercorrere un po' alcune fasi cioè spieghiamo a casa voi negli anni 90 avete fatto ballare tutta l'Italia fino al 2010 tuttora lo fate ancora ma abbiamo detto dei nomi abbiamo fatto Carola abbiamo fatto Villa Lobos abbiamo detto Rishi Oti in Solomon prima quindi vorrei parlare proprio di questa dell'arrivo di questi DJ internazionali e l'effetto che hanno avuto su di voi perché possiamo dire diciamo che un po' il vento si è spostato in quella direzione vedendo anche le line up degli eventi vedendo anche le programmazioni dei locali essendo un un cosa sei oltre a fare il manager sei un manager potresti parlare te scaricata così pensavo che era partito lui invece me va bene lo faccio volentieri perché sono sei un manager mi sta a cuore come diceva una doppia visione ho la visione di artista metempsicosi ho anche una visione di manager di artisti internazionali quindi incrociando i dati la risposta dovrebbe venire fuori e già ne avevamo parlato prima quando facevamo un po' salotto senza le riprese allora noi ovviamente fino all'avvento di internet eravamo i beniamini indiscussi della scena perché non perché non eravamo bravi ma perché anche la gente ascoltava ciò che l'Italia gli offriva cioè te andavi ad ascoltare quelli che erano nella discoteca vicino a casa tua punto e giravano le cassezzine il mondo era quello finiva lì la musica che ascoltavi era la musica appunto che girava o con le cassette o con i cd voi ricordate le cassette? tanti cassette noi in quel momento eravamo in hype totale perché eravamo gli headliner del momento poi cos'è successo? è arrivato internet esatto internet ha cambiato tutto il mondo tutti gli aspetti purtroppo anche quasi nel dna delle persone e ha cambiato anche lo scenario del mondo della notte ovvero cos'è successo? che io che andavo sempre a ballare ipotizziamo all'insomnia di Pisa poi arriva un momento in cui nel mio telefono mi viene un video e mi viene Ibiza con 10.000 cristiani che ballano con effetti impianti location che l'insonnia ad assembrarti il posto più bello della vita e diceva ma hanno preso più il culo fino ad oggi ok? perché esiste anche questo bene lì non vi nascondo che noi ci siamo trovati in una posizione di difesa cioè se è fatto come diceva loro prima gruppo grazie a Dio ci siamo rimboccati le maniche si è detto ehi ora c'è questa cosa come facciamo meno serate meno cachet però grazie al fatto che siamo un gruppo ci siamo autoprodotti le nostre serate perché altrimenti uscivi dai radar quindi si è fatto gioco forza si è fatto squadra questa è una lezione che vale poi gli agganci per organizzare serate di sicuro non vi mancavano esatto ed esperienza però cosa succede sarà diventato il siccome non posso andare a sentire non faccio i nomi il dj bomba che arriva da Ibiza perché costa 40 euro ma tanto uno vale l'altro perché costa 40 euro allora vado ad ascoltare i miei cari della meta in psicosi con cui sono cresciuto con 15 euro grazie a questa scelta di discount noi si è retto il colpo si è retto il colpo ma non eravamo soddisfatti perché sei sei l'alternativa quando non puoi avere il meglio questo è brutto quando vai a letto la sera si è tenuto botta si è lavorato molto su un discorso di marketing noi per esempio una volta all'anno si fa il tour nostro con un'immagine completamente nuova quest'anno non so se l'avete vista è quella dove siamo completamente nudi sì ho visto perché dovevamo capire come scioccare nel 2024 gente ci segue da 30 anni che cazzo li si dice ci hanno visto in tutte le salle ci hanno visto vomitare ci hanno visto ridere ci hanno visto piangere cosa fare tutti nudi bene bene prossimo passo come sarà bene bene male male allora questa cosa ha portato la conseguenza che noi speravamo c'è un effetto wow che oggi è quello che è la chiave di tutto l'effetto wow ci ha ricolpito l'attenzione il covid che per me quasi quando ci si sentiva in depressione si dice oh è 30 anni che si fa è arrivato il covid è la volta buona che è il triplice fischio era tutto nuovo arrivava roba dal web di tutti i tipi e ha detto ma noi siamo contenti 30 anni alla fine ci si inventerà qualcosa io non so cosa sia successo ma da dopo il covid è ripartita una bambola sulla meta in psicosi incredibile cioè noi oggi stiamo facendo i top club italiani e facciamo numeri da capogiro chi c'è rimasto di producer da voi perché tu Ricky non produce principalmente Mario Mario dei nostri Mario fate riuscire poi i dischi novi ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando quindi è ripartita una cosa molto figa dove non siamo più diventati l'alternativa di serie B siamo diventati l'alternativa cioè vuoi ascoltare il DJ internazionale o vuoi andare a ascoltare il format meta in psicosi dove c'è è l'unico format dove nella tendenza c'è anche il vocalist dove ci sono DJ che fanno sempre divertire che non sono mono sound cioè quando vieni a un party meta in psicosi ti puoi ascoltare un'ora di tech house un'ora di tech un'ora di ci sta anche il disco vecchio perché no il disco vecchio storia che noi si può mettere ma tanti lo stanno mettendo anche senza un pedigree necessario per poterlo mettere questo ha creato una serie di ingredienti che ti dico anche senza la consapevolezza chiara di come mai sia successo a noi c'è riscoppiata la storia in mano dopo 30 anni e noi quindi si fa il locale in cui il sabato prima c'è Ilario il sabato dopo c'è Carcox e ci siamo noi con programmazioni molto importanti quindi che ti devo dire complimenti non è da tutti è vero vi fa onore complimenti ancora io una cosa vorrei chiedere perché questo è comunque un podcast che spesso e volentieri chiamiamo veramente persone abbiamo ospiti di ogni settore nicchia però la domanda chiave la facciamo sempre parliamo molto spesso di soldi business imprenditoria eccetera e anche su questo settore mi piacerebbe sapere quali sono i guadagni effettivi cioè un dj ora è chiaro che varia tantissimo ma qual è il cachet a cui può arrivare un qualsiasi dj di qualsiasi livello perché poi penso che varia tanto immagino non lo so te oltre a fare il voc si fai anche il manager potresti parlare di te io per esempio ho visto non mi ricordo in quale intervista tipo Steve Woke che non so se definire un dj o onestamente un personaggio esatto un personaggio che ha delle richieste assurde tipo chiede la torta con la torta iphone champagne particolare 3 grammi di erba c'era scritto mi sembra che proprio Steven Basalari ci aveva detto una cosa si si Steven Steven era da noi quando lo disse comunque siamo abbastanza preparati su questo anche se sono poi scendo nel dettaglio ma mi fermerò a un certo punto perché poi non voglio fare i conti in tasca a nessuno nemmeno a me stesso ma nel mondo della notte come credo in tutti i mestieri ci sono in Toscana si dice come i cazzotti di tutti i tipi ci sono dal dj che apre la serata del dj resident local perché ha portato magari un po' di gente Filippo Ecole del Tex delle parti nostre no parliamo di x e y che magari prendano 100 euro ok o anche niente in dei casi perché è più il regalo è già farvi suonare fino a cifre incalcolabili questo incalcolabile però se non la risposta non è interessante scendo un po' in profondità ovvero nella tendenza che come si diceva è un po' più beside rispetto al al commerciale le cifre a un certo punto si fermano cioè mediamente un headliner potente internazionale della musica techno house può arrivare a guadagnare sui 100 mila euro a sera ok può arrivare può arrivare cioè può arrivare è la punta massima no però sei sei veramente al vertice sempre di ticca podanno se è una serata importante o comunque sempre una serie di cose è un'operazione di marketing che ha una valenza importante nell'ambito invece edm per esempio guetta martin garricks bob sinclair eccetera stiva occhi eccetera la marginalità è molto più elevata cioè si può dire tranquillamente che si può andare 250 300 mila euro poi a sera poi sono anche di operazioni folli come per esempio dubai inaugurazione dell'olimpiadi c'è casi particolari cavolo guetta monta sulla moto e rai bizzo andò a fare l'inaugurazione non so quanto dove magari esatto dove magari si può arrivare tranquillamente a quelle cifre tipo il top ospite un milione un disco un milione il top ospite di un evento come il Tomorrowland che ad oggi penso sia uno dei festival più famosi ci sono anche festival cioè ci sono anche festival più belli esatto è bello anche che il dj cioè io voglio andare al Tomorrowland quanto prendo prendo anche poco ma voglio sì è vero magari ci sono dj che invece sì sì allora si entra in una dinamica un po' più tecnica cioè il grande festival quei headliner che davvero tutti vogliono le paga ugualmente ma quegli altri che sono dj comunque molto quotati la marcia la merce di scambio è la visibilità che dà il festival quindi per esempio Ibiza è una piazza che paga pochissimo cioè il dj internazionale a Ibiza prende un quinto generalmente di quello che prende ovunque perché perché managerialmente parlando sai che facendo Ibiza in una certa maniera probabilmente ti consente di continuare a prendere quel fee moltiplicato 10 quando vai in Europa o in America in tour e quando fai la serata marchio tua di Ibiza quindi la consacrazione lì è un'altra cosa lì viene pagato spesso un gettone per tutta la collab e il protagonista cioè la frontman gestisce questo budget spendendolo poi in comunicazione marketing ospiti che invita eccetera eccetera e gli rimane poi inutile di solito viene affrontata così ok porto il progetto io pago il progetto poi sono cazzi tuoi ah ok cioè non è che ti chiama quello della discoteca no fai te qui la tua serata di solito quando c'è la serata il marchio di fabbrica spesso questa collab è quella che funziona di più però ripeto poi ogni 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 ci sono mille casi nel caso di metempsicosi purtroppo i fee sono minori ok ma sono soddisfacenti soprattutto perché perché noi non siamo artisti che hanno un hype di due o tre anni fai le rapine a mano armata viralità assoluta e poi come spesso succede finish noi sono 30 anni che coltiviamo rapporti con le discoteche con i promoter conosciamo tutti e quindi la nostra teoria è sempre quella di non tirare mai il collo perché te mi fai lavorare oggi perché funziona ma come è successo mi farai lavorare anche nel momento in cui magari la curva si abbassa perché è sempre stato un rapporto di fratellanza di collaborazione ovvio che in questo momento le cose stanno girando un po' meglio ma si tiene sempre il fly down perché sono rapporti che per noi lavorando solo in Italia non te li puoi bruciare infatti vuoi lavorare devono andare avanti nel tempo infatti metempsicosi o che funzioni 100 o che funzioni 50 ci vogliono tutti talmente bene che si lavorerà sempre questo è quello che penso e che fino a oggi è successo domanda vi è mai venuto in mente magari di scalare nel senso il business proprio espandendo e andando anche fuori dall'Italia avete mai fatto ci sono due criticità il vocalist che qui è una ricchezza all'estero è un freno e le produzioni che a parte il momento BXR dove Mario soprattutto Mauro Picotto Mario più grazie a quelle Ricky Gioichi Ticonti hanno girato non come gruppo ma come singoli però non è il nostro in questo momento punto di forza la produzione e oggi giri il mondo con le produzioni ok allora parliamo un po' di intrattenimento vedere un po' negli anni come la figura del DJ e del vocalist sembra che oggi non sia più sufficiente ad esempio se prendiamo lo spettacolo che stanno portando a giro per il mondo i Telo Vaz con il progetto Anima Carmine e Matteo dove hanno questo mega schermo dietro vedo ad esempio quella la direzione è quella la direzione cioè ho visto io ad esempio a settembre sono stato a vedere Chemical Brothers bellissimo concerto stupenda la musica mi piacciono però guardavo a livello di intrattenimento c'era boom 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 poi that's it fine posso dire che è un po' l'evoluzione lui prima diceva quando noi eravamo qua e ci sentivamo un po' in difetto perché poi le persone vedevano Ibiza magari ora quelli di Ibiza Ibiza stessa è in quella situazione perché vedono quelli di Las Vegas che hanno fatto questa sfera incredibile no ma loro sono arrivati prima in Las Vegas cioè se dobbiamo guardare comunque quel concetto è stata alzata l'asticella esatto come sarà il futuro la direzione non basterà più mettere due dischi punto di domanda ci vorrà più contenuti possibili secondo me oltre alla musica però sai ci vuole sempre anche un bel led ball noi il nostro led ball l'abbiamo fatto con il nudo nostro no che ha colpito particolarmente la gente ci vogliono delle superproduzioni cioè è una roba si parla non più di locali discoteca ma si parla di festival importanti per mettersi una roba tipo quelle che fanno i televasi adesso comunque è vero ci vorrà sempre più contenuti oltre alla musica perché il mio collega cioè Luca prima mi diceva diceva che l'attenzione ormai è diventata troppo breve è vero se ci fa casa ora anche quando la gente guarda i film sta al telefono non basta più guardare un film ma ti serve anche stare al telefono è proprio un sogno dell'attenzione infatti io faccio i complimenti pubblicamente a Terovaz perché parte le stimo anche quando non avevano alzato questo tipo di asticella le stimo da sempre per la coerenza il gusto l'immagine che hanno sempre creato intorno a loro la coerenza del messaggio che è stata poi un'evoluzione continua ma oggi come dicevo prima hanno creato un solco tra il DJing e loro tra lo show audiovisivo e la performance di un DJ se è più bravo che puoi immaginare quindi io non vorrei paragonare la nostra realtà a loro perché loro chapeau hanno fatto poi ci sono anche delle critiche che io potrei fare che si perde l'essenza del DJ esatto si perde spesso il concetto di serata come evoluzione di alcune cose si va a vedere uno show si va a percepire un'emozione che però va oltre il DJ non a caso quando vedi un video di Telo Vaz su YouTube il DJ quasi poco lo noti rispetto a quello che è la produzione mi stai dicendo chi c'è c'è suonà alla fine quello è proietta che mi interessa questa è una forzatura di quello che io ho detto chiaramente la colonna sonora di questi show è bellissima e è fatta da loro però da un punto di vista di di ciò che io osservo io non ho più la centralità dell'artista ho la centralità dello show della produzione esatto paradossalmente paradossalmente se avviene se il futuro va veloce come penso e l'intelligenza artificiale creerà un oleogramma per cui il singolo personaggio di Telo Vaz quel giorno lì è sul divano a vedere la televisione può fare in contemporanea uno show a Las Vegas senza esserci Ricky Leroy no nel bene e nel male questo lo dico cioè mi sono spiegato anzi per un DJ come Ricky Leroy dico lui perché è accanto a me ma posso fare anche nomi di artisti diversi per esempio secondo me anche Marco Ilario eccetera deve esserci sempre una centralità su di loro perché valorizzi il loro grandissimo X Factor se va a essere offuscata da una produzione seppur bellissima immensa secondo me alcuni personaggi sono adatti a farlo altri è bene che non lo facciano questo non vuol dire avere impianti top ledwall luci pazzesche Mattelovaz sono arrivati a un estremo di questo concetto che a me piace sottolineo di nuovo ma che ha cambiato mestiere cioè è un'altra storia cioè io non le paragono più se mi dicono chi preferisci di DJ per me Mattelovaz non ci sono ma non perché mi devi dire la domanda chi preferisci come show Mattelovaz e altri che non mi vengono in mente ma non le metto più su quel piano di lettura è un'altra categoria è un'altra categoria non so se mi sono assolutamente questo non vuol dire che gli altri devono suonare sopra un tavolino di legno no la tecnologia c'è la discoteca purtroppo è rimasta troppo legata a quello che era entri biglietteria guardaroba console è un concetto vecchissimo quindi anche la discoteca ha bisogno di un booster è rimasta uguale a 40 anni è rimasto uguale tutto se ci pensi se a me mi levi ingresso guardaroba console che cazzo fa mi sballi tutto ma va bisogna che il mondo della notte è italiano e non solo voglia fare un po' uno step in avanti perché rischiamo di diventare obsoleti le nostre strutture perché oggi vanno i festival e c'è una crisi nera dei club perché nel festival te vivi un'esperienza grazie alla location iconica vedi il K-Puture Festival grazie ai led o il mostrosi grazie a strutture pazzesche grazie al fatto che in una notte o in un giorno ascolti 50 artisti tutto questo capisci che riduce il biglietto di ingresso il guardaroba il vodka lemo e il dj singolo in un club da 200 persone come una festa di compleanno anche quell'intimità del club è bella interessante cioè affascinante ma perché te hai 35 anni sei nostalgico e hai ancora un po' di romanticismo che ti è rimasto dai tempi in cui andavano ma se te se te metti avanti l'orologio e ne hai 18 di questa intimità non te ne frega un cazzo mi sogno perché lo sai perché non te ne frega un cazzo perché nella tua intimità che dici che io amo la stories non la fai perché che cazzo fai e invece oggi ora fai le stories e basta oggi si vive si vive per raccontare a chi non c'era l'esperienza figa che ti hai vissuto c'ho le storie così abbiamo visto abbiamo visto un festival con 15.000 persone a Iesolo 15.000 persone fermi così aspettando un disco quando è uscito quando ha messo quel disco non a ballare attenzione quando ha ricevuto quel disco non è che hanno iniziato a ballare storia fatta con quel disco basta 40 euro tipo io c'ero ci sono locali in Germania Berlino ad esempio che è la patria un po' per alcuni locali dove il C-Rite viene tolto prima di entrare hai capito? ma non ce n'è più tanto ma sono eccezioni che confermano la regola purtroppo qual'è la discoteca più bella dove hai suonato in vita tua? quella che proprio è rimasta l'insonnia per il cuore per la bellezza il cocorico risponderei nello stesso modo cuore insonnia oggettività della struttura cocorico piramide però si ritorna al mio discorso perché il cocorico è il cocorico che il cocorico te entri e al di là di chi suona te alzi gli occhi e hai un'esperienza l'alban piramide può esserci chi è ovunque che non la replichi è unica sentite ma vi fa una domanda da ignorante come si fa a capire se un dj è bravo o no? cioè cos'è che differenzia come si fa a dire un dj è più bravo di un altro? tipo Richie Otin Richie Leroy perché siete più bravi di Mariellino il dj del tema? Mariellino non è amore siamo Mariellino ciao Mariellino per modo di dire cioè da cosa si dice un dj è più bravo di un altro perché questa cosa proprio non l'ho mai capita non so parlo per me io posso essere più bravo di un altro perché riesco a dare qualcosa in più durante la serata cioè ci vuole allora io mi diverto ancora quindi la gente secondo me sente lo percepisce percepisce che io mi diverto quindi io sono in mezzo a loro anche se sono di qua però sono in mezzo a loro che ballo capito se fai a vedere qualche qualche storia qualche video io sono sempre poi alla fine sono sempre a ridere a scherzare non c'è mai non c'è mai ci sono dj che guardano per terra non guardano la pista noi siamo stati bravi e continueremo continuiamo a essere bravi perché guardiamo la pista non è che abbiamo come dicevamo prima una scaletta preordinata noi guardiamo in quel momento c'è da mettere un disco c'è un altro mettere un altro disco si fa ma deve essere capita cioè è una cosa che viene da dentro è una cosa che viene da dentro non è che c'ho che ho dico con quello so già che ci sono diversi dischi che possono dare sempre l'emozione capito quindi la bravura secondo me è quella sì c'è anche da dire che secondo me ogni dj ha proprio il suo stile il suo genere e poi non c'è un più bravo o meno bravo ma è anche soggettivo io mi ricordo il gusto musicale mi ricordo a me piaceva tantissimo Chris Libbing perché aveva questo stile molto martellante che a me ai tempi piaceva adesso non potrei mai ascoltare una cosa simile però ai tempi mi piaceva magari c'era l'amico che veniva a ballare con me che invece piaceva più un altro però erano bravi entrambi questa cosa sono d'accordo con Ricky fino ad un certo punto nel senso che lui si è raccontato se stesso come lui interpreta ci sono dj molto affascinanti che in realtà non ti sorridono mai quello che conta secondo me è l'X Factor l'X Factor può avere tanti sapori mi puoi descrivere meglio cos'è questo? che se Chris Libbing si mettesse anche se ora è diventato molto più sorridente ma se si mettesse a scazzare assolutamente grande male ma se si ogni dj deve essere se stesso perché solo se sei se stesso sei vero solo se sei vero sei credibile se il mio modo di bucare lo schermo è avere come Ricciotti nei 70 macchinari dove io elaboro e costruisco musica in contemporanea e non guardo mai la sala spacchi se lo fai perché hai visto Ricci lo vuoi fare anche te ma in realtà te sei un cazzone sei ridicolo perché questa cosa si sente Ricci è così Ricci è festa e Ricci non potrebbe fare il dj serioso lo fa ogni tanto perché Mari gira il cazzo ha picchiato la macchina ha litigato la moglie ha litigato con me arriva la prima i 20 minuti col ghigno e vedi che non c'è la magia poi vecchio shortino si dimentica il problema e ribalta tutto perché diventa se stesso allora non c'è un cliché come diceva lui c'è l'essere in balance con se stessi questo è quello che conta quando io faccio la giuria di Jaeger Music Lab che è un contest per dj non c'è un cliché che io dico che dovete essere così perché sarebbe un consiglio bolle c'è una credibilità che te mi devi dare e la credibilità a mille strade certo 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 senti io direi mi piacerebbe se ritorna perché te l'avevo chiesto ma poi ci siamo persi qualche aneddoto prima di chiudere questa meravigliosa puntata qualche aneddoto non so se hai qualche aneddoto da raccontare anche degli anni d'oro divertente non so con franchino con Mario più con Luca lo stesso Mario ah no con Mario è così buono che cosa con franco un po' di aneddoti che ho visto c'è questa storia che mi dicevano quando ero piccolo che c'era franchino che arrivava con queste buste di pasticche e le tirava nella pista sono minchia ah infatti però un sacco di gente diceva sta cosa e vendeva un po' scherzato prima 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 calcolate che quello che poi la gente ci narra è sempre molto io ero tipo piccolo faceva tipo la rigona bianca sul vinile poi lo faceva girare su quelle voci lì un'altra cosa che non è vera perché lui non ha mai fatto quello esatto tutte le leggende che giravano a scuola queste cose non so perché si anche quando ero piccolo mi dicevano quelli più grandi ma è normale non la faceva mai non usava mai i vinili quindi era una cosa impossibile che potrebbero essere comunque non so qualcosa che ti viene in mente vabbè di fuori della droga sì chiaro di fuori della droga ci siamo entrati ma ma era divertente vederlo lui era sempre come ho detto prima quando quando entrava lo vedevi che era era qualcosa di distrano diverso da e lui si viveva il suo viaggio ragazzi io vi chiedo come tutti i nostri ospiti come potete vedere c'è l'autografo di ognuno di tutti quelli che abbiamo avuto certo volentirissimi di lasciare anche il vostro il lungo come vuoi Vittorio Sgarbi l'ha fatto vabbè ovvio megalome c'ha forte sì forte Sgarbi sì e Cruciani sono due persone che non si fanno problemi a di quello che ho detto sentivo ho letto un po' ho guardato un po' Enrici dove vuoi scegli tu Sgarbi quando arrivò che disse ma che ci fanno da sti coglioni giustamente vai chi è chi è no disse perché siamo venuti noi da questi stronzi ragazzi grazie mille grazie a tutti grazie a voi grazie a voi grazie a voi è stato un piacere grazie grazie domani di nuovo qui siamo urla andiate in after in after tipo tre si chiama una console so